Dovrei parlarvi di me? Non saprei cosa dire. Un giorno di questi ero qua da sola e mi si avvicina un tizio. Era uno di quelli che dormono su un pezzo di cartone. I suoi occhi erano come due grossi bulbi rossi e versi al centro di un mucchio di carne. E poi un odore di alcol, carugna, traspirazione, urina. Come l'odore di un cammello lasciato a morire in una distilleria. Mi si avvicina e era chiaro che fosse sul punto di dirmi qualcosa. Gli occhi mi bruciavano un po' per via dell'odore, ma gli ho sorriso. Un riflesso automatico. E poi mi ha parlato. La sua voce era come quella di 30 uomini intenti a spaccare noci. E mi ha detto, mia cara ragazza, la vita è come una pista di patinaggio. Sono in molti a finire a gambe all'aria. Sono in molti a finire a gambe all'aria. E quella pillola di filosofia da quattro soldi mi si è fermata in testa. E la mattina quando mi alzo a volte mi guardo allo specchio e non posso fare a meno di pensarci.